Una volpe rimase intrappolata in una tagliola. Si salvò ma perse la coda. Senza coda si vergognava così tanto che la vita le appariva insopportabile. Così pensò di convincere tutte le altre volpi a fare a meno della coda. In quel modo non sarebbe più stata diversa dalle altre. Le convocò tutte e le invitò a tagliarsi la coda, cercando di convincerle che, oltre a non essere bella, si trattava anche di un peso superfluo. Una delle volpi però replicò con prontezza. Certamente questa proposta torna utile a te, altrimenti non ci consiglieresti di farlo. La morale di questa storia è, alcune persone danno consigli non per benevolenza ma per convenienza.